Ok, adesso viene bosteggiata la Ols e dopo il suo viaggio secolare, dopo l'odicea della Spagna, c'ha bisogno un po' di amore pure e quindi la portiamo qua, così poi Max la mette a posto. Qui c'è il mister Bau che ha seguito tutta l'impresa da vicino. Ti ho detto di non fare il video.